e anche stasera sento il rosso, 3 a 0, coda Luciani ha facciuto in media azione, mamma mia tutto il campo si è fatto ha passato a Di Maria di Vada, tira, la parano il portiere e coda porta a voto il gollo Luciani, 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 Luciani magnesium, du PM, du PM, du PM, du PM per fare un pallone bu, ragazzi che azione Demonini cosa mi vedi riscopade? si, che cazza sia tanto che non è stato fatto ai, guarda Lugioni, 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 Lugioni. e Ciro Zuppa, non pare se... cazzo, che azione, delusioni ha facciuto Zucca, non chiude vai, vai, vai i piedi, vai ha facciuto i piedi pure ma tutto non ha facciuto, vai guarda, guarda, guarda no, che ne vengono sempre in pancia mi chiede l'ha un culo, non chiude ma... guarda, guarda, guarda è Cassancio Cicampo questo cazzo, così, questo telefono finchia Diego, a me cazzo, si vede, guarda 12.13.2 eh, guarda hai un paio dei cioteri? si, un paio è proprio come scrivono Dicevono 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 Grazie